Angela è il mio nome. Di giorno sono una donna come altre, di notte sono una puttana come tante. Questa è la storia della mia vita. So che c'è differenza tra giusto e sbagliato, ma dentro di me, entrambe, sono parole morte da un pezzo. Ieri ho comprato un televisore al plasma. Ho fatto delle buste paiva false per averlo. Per pagarlo, incomoderate. Coni rei. Interno 4. Bite parallele. Anno 2023. Vamos, Marco. Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Welcome to Radio Giano Public History. Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Fin spasso! Amici e amiche di Radio Giano Public History, Benvenuti a questo nuovo episodio di Vite parallele dalla vostra Katia e Simone e da Marco Lodi alla regia. Quest'oggi dialogheremo con Enrico Pagliasso. In arte, con i rei, regista, performer, poeta, attore, anche fonico abbiamo appreso da poco, e Pasolignano Doc. Parleremo con lui di varie eventuali poesie, libri, ma soprattutto del suo libro di poesia, Interno 4. Però prima di cominciare l'intervista, come di consuetudine, facciamo il primo stacco musicale con Green ST Noctural Spirits. Vamos, Marco! Sei all'ascolto di Radio Giano Public History. Bene, rieccoci a Vite parallele, Katia e Simone, con i rei, Interno 4. Allora, con i rei, buonasera! Buonasera a te, Katia e Simone, un saluto agli ascoltatori di Radio Giano Public History e agli ascoltatori del tuo programma Vite parallele. Grazie. Allora, con i rei, ma tu chi sei davvero e perché hai scelto questo nome d'arte? Io sono con i rei, al secolo di Enrico Pagliasso, però ho deciso in una mattina del marzo del 97 di darmi uno pseudonimo, anche perché mi interessava, nel momento in cui poi avrei pubblicato qualcosa, che un libro avesse un suo nome. Non mi interessava apparire con il mio nome e cognome al secolo. E poi anche perché in quel periodo lì, per molto tempo, ho letto, ho studiato, ho fatto delle mie cerche sul movimento underground della pop art e quindi sono entrato in questo mondo di Andy Warhol, della Silver Factory, di Velvet Underground, quindi Lou Reed, John Cale e altre cose. E quindi, diciamo che entrando in questo mondo, questo mi ha portato anche a darmi questo nome d'arte. Tra l'altro, aggiungo anche che mi hanno ispirato i nomi di alcuni artisti della street art, tipo Lex, Stan ed altri. Quindi, folgorato sulla via di Andy Warhol, insomma. Più che altro, più che folgorato, affascinato. Eh, non so. Tanta roba, tanta roba quella Factory. Tanta roba. Ascolta, Coni, invece, quando sei entrato nel mondo della poesia e perché? Cioè, è qualcosa che ti affascinava, che ti è piaciuta fin da bambino o c'è stato un momento particolare nel quale hai colto la poesia? Ma io ho iniziato a scrivere versi in forma di testo di canzone, quindi di lirica, nell'età adolescenziale. Ho iniziato anche a comporre dei miei brani, delle mie canzoni. E poi, a un certo punto, nel 97, ho deciso di dedicarmi alla poesia. Però, cercando di, come dire, di lavorare sul mio stile, sul mio modo anche di intendere e fare poesia. E da qui è nata l'idea dell'Interno 4, cioè di un poimetto in chiave moderna che è stato pensato, immaginato, ideato come un film da leggere e vedere tra i versi. Anche perché spesso il cinema ha attinto dalla letteratura, dalla narrativa e quindi ho tentato di fare un'operazione al contrario. E quindi è nato così Interno 4. Certo, a proposito di cinema, poi ci addentreremo, insomma, in questo bellissimo libro. Queste poesie che tu chiami liriche, mi hai detto. Sì, le chiamo liriche. Le chiamo liriche in Interno 4, appunto un film da leggere bene tra i versi, Interno 4 è un film a episodi. I titoli delle ririche sono diventati a pieno titolo, i titoli dei vari episodi che compongono l'opera. Quindi la grafica, tra l'altro, già dalla copertina, ma anche all'interno, che ho curato personalmente, in qualche modo catapulta il lettore in una sala di un cinema. Quindi una sala buia, davanti a uno schermo, grande. E quindi diciamo che il lettore, per magia, diventa uno spettatore. È vero, sembrano quasi degli ingressi i titoli dei capitoli, con i quali è diviso, insomma, questo libro. Sì, più che dei capitoli, appunto, delle niriche, o meglio, di questi monologhi più o meno ulteriori, dei vari personaggi, tra cui il personaggio principale è appunto un poeta. In questa opera c'è, da un lato, c'è fantastica rire letteraria, diciamo, anche autobiografico per certi aspetti. Un po', diciamo che i vari personaggi che costellano Interno 4 sono delle maschere di vari tipi di disagi e di inadeguatezze costanti nel vivere. E c'è, diciamo, in qualche caso anche un po' di me. Però, ecco, mi preme dire che con questo libro ho cercato di dare voce a delle persone che ho realmente conosciuto e che a pieno titolo sono diventati personaggi di Interno 4, di questo film da leggere e vedere tra i versi. Certo, ascolta, a proposito di cinema, Cone, tu mi hai raccontato, e ci siamo conosciuti ovviamente prima dell'intervista telefonicamente, mi hai raccontato di questo meraviglioso mondo di cinecità, quest'atmosfera che tu hai respirato, se non ricordo male, attraverso i racconti di tuo padre. Vuoi raccontarci qualche aneddoto? Sì, sono molto legato al cinema, perché nella mia famiglia mio padre è stato un decoratore e pittore di scena impiegato al reparto scenografia di cinecità, allora cinecità-stabilimenti cinematografici, quella che fu definita poi la Hollywood sul Tevere, e lui entrò nel 1958, proprio nel momento in cui stavano cominciando a lavorare alle costruzioni sceniche in esterno, soprattutto in esterno, di quello che credo consideriamo un po' tutti il colossal dei colossal, cioè Ben Hart. Quindi lui per mio padre per 20 anni ha lavorato per buoni anni al reparto scenografia di cinecità e poi il reparto andò a fuoco per un incendio doloso, l'azienda ricollocò mio padre e gli altri colleghi del reparto scenografia di cinecità e lui siccome aveva fatto dei studi professionali, tecnici, quindi fu chiamato poi a occuparsi come disegnatore tecnico per cui realizzava plenimetrie per le costruzioni sceniche in interno e esterno, cioè interno nei teatri di pose, esterno nell'area esterna a cinecità, da legare poi a quelli che erano i preventivi richiesti dalle varie società di produzione italiane e straniere in modo particolare. Anzi ha pure realizzato la grafica di una copertina di variety, nota rivista, credo settimanale se non ero, perché Cinecità voleva in qualche modo rilanciarsi e poi ha curato anche, sempre nel periodo dei primi anni 70, appunto quando da reparto scenografia passò come disegnatore tecnico, curò anche una brochure, Andepriane che fu presentato a un'edizione del Festival di Cannes allo scopo anche questo di far capire che Cinecità era in continuo, diciamo, come dire, ammodernamento, insomma hanno creato un reparto sviluppo stampa che prima non c'era, quindi il regista poteva avere nel giro di mezz'ora o un'ora già il girato, oggi in film come The Fiction, le serie televisive e anche la pubblicità, insomma tutto viene girato in digitale, ma allora insomma non era possibile farlo prima di allora e poi avevano ammodernato con nuove tecnologie il reparto doppiaggio. Devo dire anche che, tornando a Interno 4 per un attimo, che proprio nel curare la terza di copertina, premesso che appunto ho una biografia di Sten, uno degli artisti della Strict Art, mi aveva in qualche modo ispirato andare a vedere una sua mostra, una sua prima mostra, il terno in una galleria nel quartiere di Salorenzo dove io ho vissuto per alcuni anni, per dieci anni, e vedevo che questa biografia era molto ironica, come a non prendersi troppo sul serio e quindi mi ha affascinato. Allora quando si è presentato il momento che dovevo curare la terza di copertina, mi sono ispirato alla biografia di Sten, con quel tono insomma, nel curare la terza di copertina ho scoperto che io sono nato nello stesso giorno e mese a distanza di un secolo esatto di uno dei due fratelli Lumière. Quindi diciamo che sono legato al cinema a partire dalla mia famiglia, dal lavoro, la figura di mio padre e da undici anni sono un attore generico, cioè figurazioni, figurazioni speciali, quindi di piccoli ruoli. E quindi questo mi ha consentito anche di, come dire, sul campo, di rubando con gli occhi, di imparare molte cose che hanno poi portato a produrre un mio primo video di poesia, perché così è nato, ma di fatto uno short film di 7 minuti e venti dal titolo epilogo e prende il titolo e si ispira a dei versi appunto che sono contenuti sulla parte finale del poemetto in interno 4 in questo film da leggere e vede tre versi. Ecco, queste sono le cose principali che mi legano un po' al cinema. Poi aggiungo anche che abbiamo avuto esempi come Pierpaolo Pasolini, Tony Harrison, poeta inglese, e Derek Jarman, solo per fare alcuni nomi che sono stati dei poeti, come sappiamo, che hanno poi prodotto delle opere cinematografiche. Del resto, il poeta cosa fa nel comporre una poesia o una lirica che dir si voglia? Non fa altro che creare immagini. quindi nel mio tentativo di invertire ruoli, quindi io mi ispiro al cinema, al contrario, il cinema si ispira e si è ispirato spesso all'interno della letteratura, a narrativa, in modo particolare. Il concetto è che sono arrivato a capire una cosa, che le parole sono altro che fotogrammi e quindi nella lettura di fatto, a prescindere da Interno 4, da questo tentativo di trasformare un poimetto in un film da legge e vede tra i versi, grazie all'osilio e all'aiuto anche della grafica, di fatto un lettore diventa uno spettatore nel momento in cui legge della poesia. Quindi io credo fermamente in questo e credo che un poeta sia la persona tra le meglio preposte per fare dell'ottimo cinema. E ripeto, i nomi che ho menzionato, Pasolini, Tony Edison con un film dal titolo Prometheus che probabilmente è ispirato a questa figura mitologica, però catapultata in una fabbrica inglese oppure non so, Derek Jarman che ha realizzato un film molto bello di Ray Calt e Caravaggio. E poi aggiungo anche un'ultima cosa sull'argomento per avvalorare questa, diciamo, mia tesi. Vackel Linsday fu un visionario, un poeta statunitense che nel 1915 una prima stesura e successivamente un'edizione ha cresciuto a più approfondire nel 1922 pubblica un libro che tra l'altro è stato pubblicato o tradotto anche in Italia qualche anno fa una nota caseterice dal titolo L'arte del film e questo poeta che è stato anche diciamo un poeta che ha illuminato moltissimo i poeti del movimento della Big Generation quindi i vari Kerouac Gisberg eccetera lui appunto si è occupato di cinema credo forse non a caso non ha realizzato dei film però ha prodotto questo saggio che ho trovato molto 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 interessante di cui consiglio la lettura oltre che vedere il canovaggio di Derek Jarman Prometheus di Tony Harrison e ovviamente Pasolini insomma chi non l'ha ancora visto lo consiglio vivamente certo Enrico insomma Pasolini è nato Pierpaolo Pasolini ecco voglio dire certe personalità nascono così e volevo chiederti secondo te Federico Fellini è stato anche lui un poeta del cinema lui è stato a mio avviso lo dico con umiltà è stato un sognatore e a modo suo un poeta assolutamente sì credo che oggi qualsiasi regista italiano dalla diciamo quando viene accolto in qualche festival soprattutto all'estero in modo particolare all'estero viene accolto con una certa simpatia con un certo affetto perché ancora oggi ha detto di amici che si occupano di cinema di registi che ho conosciuto insomma come dire il nome di Federico Fellini diventa una garanzia e quindi diventa anche un richiamo alla grandezza del cinema italiano e quindi vengono accolti i nuovi autori e non solo ovviamente i nuovi autori magari i registi già fermati con un certo veramente attenzione affetto perché abbiamo avuto registi come nel caso di Federico Fellini che hanno come dire fatto innamorare tutto il mondo di un certo modo di fare cinema di intendere cinema che è stato prodotto in Italia insomma assolutamente allora io farei la seconda pausa beviamo un sorso d'acqua con I wanna parking size vamos Marco Radio Giano Public History la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura feels like the first time throw away all my pride don't wanna say I love you first but holding it in just might make me burst love in the open daydreaming hope eccoci rientrato in studio dopo queste note su a denti da Roma con i rei da Pardonino Cazia Simone e vite parallele allora con i rei caro William Faulkner diceva che la poesia è la storia del mondo su una capocchia di spillo vuoi leggerci due liriche da questi o anzi due fotogrammi da questo film di parole che hai prodotto sì volentieri ho scelto per l'occasione due liriche o meglio due episodi da interno 4 da questo film della GVD tra i diversi la situazione il poeta parte numero 4 ok sotto l'inseglia di un albergo d'ore uno sguardo complice di un travestimento mi sorride ambiguo all'angolo della strada all'angolo del vizio so che non è scelta in tutto questo siamo tutti in coda per Caronte nella sera che lascia il passo a una improbabile note il magrebbe marginato colora di nero il caos di città l'hanno inchiodato al palo di un semaforo come un Cristo senza pietà né perdono so che non è scelta in tutto questo siamo tutti in coda per Caronte senza scelta né via d'uscita nella metropoli distratta muoio in una sigaretta sono vivo solo nel respiro e la mente ubriaca di immagini inquinate un pensiero poi si è d'accanto ai loro margini un altro di rabbia danza un insolito minuetto a turno danza nel silenzio dell'indifferenza già mi dico nel silenzio dell'indifferenza luce e rumori si perdono confusi e continui nella notte che sfrutta che è violenta che cancella tracce di crimini visibili sulle strade come altari dell'estremo sacrificio terra ormai non più promesse in coda per Caronte non c'è via di scampo e muoio in un'altra sigaretta e nel suo sorriso ambiguo non più così diverso dal mio in coda per Caronte muoio in un'altra sigaretta ancora e negli occhi del Maghreb non più così lontano da me ed io sono solo vivo nel respiro poiché l'uomo che vive in me muore nella notte tra i loro passi senza scelta bella l'altra che ho scelto è sul finale di Interno 4 del film da leggere per i tre versi epilogo quante volte sarò a disagio per la forza di cui manco e quante altre sulla distanza mi smonterà in un minuto e mezzo quante volte mi annullerò nei miei occhi di whisky e ghiaccio prima di sciogliermi come plastica nel fuoco che ho dentro e quante altre mi sentirò un nano nell'immensità delle parole quante volte sarò pietra lungo un fiume di seta e quante altre mi vorrai a cercare sapendo che la vita è un bene prezioso quante volte griderò al vento mute parole ed amore e quante altre sparirò cieco nel buio di un ambigo silenzio che porto dentro in eterno e nella dorata eternità di un verso quante volte sarà grandioso essere tutto ciò che non si è e quante altre sarà grandioso essere tutto ciò che non si è più bellissimo bravissimo coni davvero grossi complimenti veramente c'è tanta intensità e quanta Roma c'è in questo film in questo film da leggere vede traversi in eterno 4 intanto la gelesi il libro l'ha avuta nella comporre nel quartiere San Lorenzo dove ho abitato per dieci anni a partire dall'agosto del 97 fino ad agosto del 2007 ci sono voluti dieci anni per arrivare poi a montare perché io ho letteralmente montato questo questo mio poemetto perché nel corso di questi dieci anni fatti non solo di creatività ma di vita personale di lavori di cose private insomma di cose che andavano o non andavano insomma quello che è la vita insomma sono appunto arrivato ad avere del materiale un po' come un regista no? un regista sul set fa delle riprese fa i campi contro campi le quinte i totali i primissimi piani i primi piani insomma in magazzino avevo delle cose che ho composto e quindi da lì poi è nata l'idea del film da leggere e vedere tra i versi vorrei anche dire una cosa che appunto il personaggio principale come dicevo poco fa è un poeta non a caso e gli altri personaggi che costellano la realtà notturna di una città che si può essere Roma ma può essere New York può essere Sydney perché questi personaggi rappresentano nel loro disagio nella loro inadeguatezza qualcosa di universale comunque una metropoli comunque la sua ricordina è metropoli ovviamente il non indicare la città in questo mi ha ispirato Edgar Allan Poe quindi non è un caso che non abbia indicato la città certo è che le persone che ho conosciuto e che poi sono diventate di fatto appena un titolo i personaggi di Interno 4 del film da leggere tra i versi sono persone che io ho conosciuto nel quartiere San Lorenzo in zone limitrofe per Roma insomma considera che io avevo una mia occupazione ma poi non avendo obblighi familiari o altro avevo tutto il tempo a disposizione e quindi spesso i quartieri tornavo molto tardi la notte e nel girovagare nella città mi sono abbattuto in varie realtà insomma e questo anzi raggiungo che questa umanità è una fonte inesauribile per un scrittore per un poeta assolutamente e la cosa che mi è sempre diciamo interessato in modo particolare è che questo libro fosse un momento di riflessione esattamente come quando si vede un buon film e questo film in qualche modo porta allo spettatore a riflettere su alcune tematiche a riflettere su in questo caso sugli ultimi della società visto che poi nella nostra contemporaneità purtroppo sembra che ci si occupi degli ultimi ma non in maniera a mio avviso adeguata non lavorando con tutte le energie perché ogni persona abbia si rispetti la dignità di ogni persona ormai gli ultimi danno fastidio Enrico dai sembra quasi che diano fastidio io sono non sono pessimista sono realista il fatto lo vediamo anche in questo nostro tempo a 2.0 lo vediamo anche nel nostro paese lo vediamo anche altrove c'è il mondo viaggia talmente in velocità che sembra che non abbia più tempo per altre cose quindi benvenga un libro benvenga la poesia benvenga il cinema benvenga tutte quelle forme d'arte che possono in qualche modo come dire portare ogni persona ne vedo a ragionare su alcune tematiche perché perché sono temi che ci riguardano tutti non riguardano solo le persone che soffrono una certa condizione sociale certo 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 e sull'umanità diurna ti piacerebbe fare un altro film in versi perché anche di giorno insomma c'è una una bella fauna ma in interno 4 nell'episodio Home Sweet Homeless che è un episodio nel quale il poeta racconta un po' dei suoi ricordi una memoria di tre homeless beh uno due di questi tre anzi tutte tre uno però so che ha nominato Lord Byron perché girava con una sorta di frac con un carrello della spesa rubato sicuramente in un supermercato chicca la nana che era una donna una signora della certa età nana che viveva sui cartoni e poi una mattina uscendo da 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 casa insomma dove abitava San Lorenzo a un certo punto mi sono trovata di fronte una persona completamente bendata bendata in tutto il corpo che si dimenava sembrava una mummia vivente qualcosa insomma praticamente in interno 4 ci sono già delle cose che io ho attinto anche durante il giorno non dei miei progetti già una volta pubblicato tra l'altro colpo l'occasione intanto provo una certa emozione perché proprio nel mese di ottobre 15 anni fa fu pubblicato fu presentato per la prima volta interno 4 in una libreria di San Lorenzo perché appunto interno 4 è stato composto ho pensato ideato nel quartiere San Lorenzo la libreria fuori le mura insomma è un adolescente questo libro sì è un adolescente mi fa piacere che ci sia ancora qualcuno curioso come dire capire un po' il senso di questo libro eventuali significati del libro quindi l'emozione è molto particolare oggi per me per quanto riguarda interno 4 interno 4 è nato per essere l'unica cosa che io ho pubblicato e pubblicherò non è nei miei piani già da molti anni pubblicare altre cose lo faccio però quando e ciò non significa che perché io non pubblico un libro non componga non ho composto diverse cose insomma e da qualche tempo da qualche anno ormai attraverso la piattaforma del social network facebook io periodicamente insomma pubblico dei miei versi con tanti copyright partecipo anche attivamente a delle letture pubbliche magari dando precedenza all'interno 4 e perché no aggiungendo magari nella mia scaletta anche qualcosa di inedito quando altre cose che svolgo da svariato tempo anche organizzare eventi di poesia sul Roma dove cerco di dare visibilità a poeti che non hanno niente di meno rispetto ad altri poeti diciamo più o meno accademici che hanno maggiore visibilità anzi dal 97 in poi da quando ho cominciato a frequentare un pub a San Lorenzo dove si tenivano le letture e non sembrava di stare a San Lorenzo ma sembrava di stare a Greenwich a New York è bello l'atmosfera era più o meno così perché poi sono stato più volte a New York per cui insomma come sono stato anche a Berlino e quindi frequentando certe situazioni certe cose insomma ho sempre cercato nell'organizzazione di questi eventi in omaggio a Pasolini il più recente il primo novembre si è organizzato un anno prima un evento in collaborazione con il ristorante al Biondo Tevere in via Ostienze il ristorante che tra l'altro frequentava spesso e abitualmente per Paolo Pasolini durante la sua soggiorno permanenza lunga permanenza nella città di Roma che amava moltissimo e poi ho dedicato per i cento anni a Garbatella a O'Reading in omaggio a Vitor Cavallo che è stato uno scrittore un attore un autore di teatro e anche un poeta e anche lì ho selezionato dei poeti e poetesse che in qualche modo ho conosciuto che conoscendo i registri già a partire dai loro versi potevo immaginare che potevano essere le persone che meglio potevano interpretare i versi di Vitor Cavallo non so un'ultima cosa chiudendo su questo argomento degli eventi un evento organizzato a sossegna di Erri De Luca è stato il mio evento l'unico di tre eventi a Roma alla vigilia della prima udienza perché nel 2014 a giugno del 2014 Erri De Luca era stato incriminato di aver come dire in qualche modo incentivato la rivolta dei Notav quindi sei impegnato sei impegnato anche dal punto di vista civile politico insomma io credo io credo che prima del poeta c'è l'uomo comunque un poeta è dei poeti essere sensibili alle cause sociali nobili fino anche politiche quindi mi piace metterci la faccia quando ci sono delle situazioni in cui bisogna assolutamente esserci la stessa cosa ho fatto appoggiando nel 2012 nel mese di luglio la lotta dei lavoratori di Cinecittà mio padre è mancato nel 96 ma io quando ho appreso la notizia che dal 4 di luglio del 2012 i lavoratori a buona parte su 190 180 erano a uno messo in piedi in presidio di lotto occupazione proprio all'ingresso di Cinecittà civico 1055 io dissi proprio la mia compagna Raffaele dico guarda amore devo andare perché questi ragazzi insomma hanno bisogno e poi perché io ho detto sai insomma come sai vengo da una famiglia dove mio padre ha lavorato lì per vent'anni come faccio a non andare tra l'altro è capitato un momento in cui io ero disoccupato e avevo perso il lavoro e l'ho fatto anche per altre situazioni da disoccupato da precario perché credo che sia importante partecipare attivamente quando ci sono nella vita diciamo di un paese da un punto di vista civile nell'appoggiare delle lotte sostenerle credo che sia importante credo che sia anche un compito di uso un termine di un intellettuale di uno scrittore fare questo devo dire che anche nella produzione poetica in Italia nel nostro paese nel bel paese come amava chiamarlo Dante Alighieri spesso volentieri la poesia è una poesia che è più concentrata su Dio è una poesia che raramente è una poesia civile insomma l'ultimo esempio di poesia civile l'abbiamo avuto con Piet Paolo Pasolini e quindi quando in una società contemporanea a livello diciamo mondiale e poi nel particolare quando nel nostro paese il paese ha già avuto 12 anni più di crisi economica due anni di pandemia come si fa ad essere indifferenti e non parlare di queste cose anche attraverso una poesia anche rispettare le ricostruzioni in qualche modo tu hai perfettamente ragione io ne conosco tanti di poeti civili il problema Enrico è che sono schiacciati da una mole di promozione editoriale letteraria che promuove un altro tipo di poesia oggi la poesia è diventata anche molto vanità egocentrismo narcisismo prima il nome e poi il tema hai capito queste sono cose che conosco bene motivo per cui anche di recente di recente proprio in una occasione pubblica presso una libreria di Roma il Mangia Parole diciamo libreria caffè letterario che da molti anni dal suo nascere quindi è nato pre pandemia questa libreria dà molto spazio autori emergenti eccetera ma tu mi come dire mi presenti mio fratello cioè nel senso cose che conosco e le conosco anche bene perché già da quando ho mosso i primi pazzi e seppure i miei versi erano in erba a cervi eccetera insomma mi sono preso conto motivo per cui io mi sono autoprodotto con tanto i codici sbn quindi io sono editore di me stesso e aggiungo anche perdonami finisco aggiungo anche che io ho imparato anche a gestire il mio ufficio stampa quindi io invito i poeti a essere promotori di loro stessi e essere anche autori editori indipendenti perché io l'ho fatto nel 2008 e all'epoca era una cosa più unica che rara e detto tramite anche se mi è costato 50 euro per 10 barcode di cui non ho utilizzato solo uno e l'isbn io non ci ho pensato due volte a fare questo tipo di operazione anche perché volevo il controllo totale della mia opera e soprattutto avendo visto che spesso e volentieri le piccole e medie caseidrici per non parlare poi delle grandi che appunto quindi dicono più i nomi importanti diciamo quelli già conosciuti piuttosto che investire su nomi sono nuovi autori lì insomma vedere che praticamente le case incassavano soldi da questi autori inediti o la loro prima pubblicazione non curavano poi dopo minimamente nella produzione nella distribuzione in maniera come dire adeguata ma questa è una realtà Enrico allora io nella mia vita sono stato un promotore vendita seppure un altro settore e per diversi anni e quindi ho detto bene a questo punto mi formo mi formerò per diventare editore no però sono già comunque promotore e poi un mio carissimo amico Edward Bartolucci che era ed è tuttora un validissimo addetto stampa con numerose esperienze in questo senso mi è stato di aiuto perché mi ha insegnato a redigere un comunicato stampa quindi tutto quello che direi produce o ha prodotto ai 25 anni soprattutto dal 2008 in poi dall'interno 4 in poi ho cercato di promuovere al meglio al massimo quindi sta avviando un contatto con le redazioni certo con non so su Roma il Trova Roma di Repubblica eccetera insomma va bene e tra l'altro questa cosa è stata anche bella non solo per me per i progetti che mi coinvolgono a me come persona appunto no la cosa bella è stata mettere a servizio queste cose per altri artisti e non da ultimo per i poeti che io ho invitato in alcune occasioni negli eventi che ho organizzato perché insomma credo che bisogna rispettare e voler bene ai poeti e quindi bisogna essere generosi bisogna essere generosi beh insomma io a Roma so quello che si organizza gli eventi poi ritrovano anche la bottiglietta di 33 centili dell'arco vicino a guadagnare quanti di condividere spazi di dire spazi perché dovete andare e avere ecco però tante persone se lo dimenticano bisogna farsi promotori di se stessi bisogna anche cercare di frequentare gli ambienti per capire dove posizionarsi che cosa che cosa il termo 4 è tentativo di fare anche di un libro di poesia qualcosa di diverso perché con rispetto per Sindagi che leggo tuttora di autori importanti come anche di persone di nuovi autori nonché amici amiche poeti e poetesse ma io il tentativo era proprio di fare qualcosa di assolutamente diverso credo di esserci riuscito l'hai fatto perché ha 15 anni e non li dimostra io farei con Ray la terza pausa e poi ti faccio ci abbiamo verso la parte finale con due domande una curiosità e una domanda un po' più corposa quindi andiamo con le fusion basso vamos Marco sei all'ascolto di Radio Giano Public History la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura Radio Giano Public History ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it a Grazie a tutti. 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 Allora diciamo che lo stesso Interno 4 nel comporre versi partendo da Warhol, partendo da Warhol per un semplice motivo perché Warhol i primi film che lui dirigeva e di cui era produttore perché poi dopo era solo produttore e la regiera era di Paul Morris. Grazie a tutti. Su un cavalletto, quindi una camera fissa e alcune persone che frequentavano la factory diciamo dei personaggi venivano ripresi da lui e loro davanti alla camera parlavano di sé, parlavano di altro eccetera. Questo diciamo è stato l'idea iniziale. Poi diciamo per alcune atmosfere sicuramente mi ha sempre affascinato e colpito il cinema di Dean Vendors. Io mi ricordo quando uscì nel 87, 88, il cielo sopra Berlino, Wings of Desire, il titolo originale. Beh, lo andai a vedere più di una volta perché mi ha completamente affascinato questo film, la poetica e ancora una volta come in altri film italiani, la mancina del bianco e nero, insomma una serie di cose. E' una Berlino che ancora viveva separata da un muro e quindi diciamo che... Quindi Warhol e Wenders... Ma Warhol c'è, esiste ancora nelle sue opere e in quello che ci ha lasciato, in Wenders c'è. Ma diciamo che il poimetto ha questo intento di essere un film della legge vera e tra i versi. Ma posso dire che l'Interno 4 è stata per due date, nel 2000 credo 11, è stata fatta una lettura teatrale in un piccolo teatro a Roma, a Trastevere. E lì ho avuto un'emozione particolare. Tornando alla regia, non lo so a chi darei la regia, anche perché in questo periodo io ho prodotto un video di poesia dal titolo epilogo, epilogo appunto della lirica che ho letto prima, anche perché era la lirica che meglio si prestava per un video di poesia che non doveva durare più di tanto, come minutaggio. Rifacendo un po' la logica dei videoclip musicali, no? Una canzone dura circa quattro minuti e quindi insomma, sto partito da lì. Io adesso sto lavorando già da un po' di tempo a un mio progetto per un mio primo lungometraggio, che è ispirato a una persona realmente esistita e che faceva un lavoro particolare, ma che era anche fotografo e poeta. Quindi non so, non immagino la regia di qualcuno per interno quattro, anche perché la mia, come dire, cifra è quella che ogni cosa che ho potuto realizzare, perché è già un successo realizzare le cose. Sono progetti a sé stanti, non c'è la volontà da parte mia di fare il verso a me stesso, quindi ripetermi, no, ho proprio una necessità di passare a cose diverse, pirogando, diciamo così, il mio poeta, come ci insegna, e lo dico con un'umiltà, Pasolini, Derek Jarman e Tony Harrison del cinema. Quindi diciamo che sto pian piano, dopo l'esperienza di Piu, che è stato un short film nato come videopoesia, autoprodotto, con la complicità di persone che hanno collaborato gratuitamente, insomma, partito per poter partecipare a selezioni di un festival importante di videopoesia che si tiene ogni due anni, dal 2002, che è lo Zebra, poi il Free Festival di Berlino. Poi via via, insomma, ho organizzato delle proiezioni, ha vinto anche un premio nel 2020, anzi, oggi è il giorno in cui nel 2020 c'era la premiazione, però non in presenza, perché eravamo ancora nel pieno della pandemia, quindi ho ricevuto un premio al concorso nazionale dell'estetica. E' il tuo mese, ottobre, insomma? Ma ottobre, ciclicamente, posso dirti una cosa. Ecco. In effetti, ottobre, a parte il fatto che il mese in cui sono nato, tra pochi giorni, il 19 di ottobre sarà il mio 61esimo compleanno. Sì, nel bilancio. Cioè, nel bilancio. Insomma, nel bilancio, ascendente sagittario, nel segno, nello scopo cinese sono una tigre. E comunque, questa è una curiosità, comunque no, ottobre ha sempre rappresentato ciclicamente, in media, ogni 5 o 10 anni, un momento in cui c'è, nella mia vita, un cambiamento. Cioè, da un punto di vista, come dire, professionale, non che intenda fare poesia a una professione, però diciamo che dal momento che sto lavorando nel 2019 alla realizzazione di un film, adesso tutto è pronto per promuoverlo, promuovere il progetto ai produttori, quindi sto in una fase, insomma, in cui mi farò promotore di questo progetto, di questo mio film. Quindi, diciamo che nel mio percorso c'è un libro, che è internoquatto, un film da leggere tra i versi, che per qualche modo considero un po' il mio primo film. C'è Epilogo, che è uno short film nato come videopoesia, e mi auguro e mi adopererò per realizzare un primo e unico lungometraggio. Nel frattempo ci sono state altre cose, ho continuato a comporre, ho organizzato eventi, ho promosso anche artisti di arti contemporanea, insomma. L'archivio mio, che esiste non per archiviare ma per documentare, è un archivio che può testimoniare dal 97 ad oggi tutto quello che ho potuto fare. Ripeto, riuscire a fare queste cose è stato il vero successo. Pensare di fare le cose per avere successo è partire col piede sbagliato. Il successo è riuscire a realizzarle. Per realizzarle bisogna metterci tutto se stesso, bisogna essere credibili nel senso attingere dalla propria realtà, dalla propria esistenza e dall'esistenza degli altri per raccontare delle storie che possono in qualche modo fare breccia nella mente, nel cuore, nell'anima del lettore, dello spettatore. Se no è credibile quello che uno fa e quello che uno è la storia o le storie che uno vuole proporre. Quindi i grandi insegnano nella letteratura, nella poesia, nel cinema. Basta, come dire, prendere degli esempi e cercare di assorbire l'esperienza dei grandi e trasformare quel modus operandi in qualcosa di proprio, magari mettendoci qualcosa in più. Perché come diceva Andy Warhol, visto che nell'arte c'è stata tanta produzione, allora l'impegno maggiore è quello di inventarsi un tratto in più rispetto a quello che c'è stato prima. Allora diciamo che per il tratto in più bisogna inventarsi qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto, di cui abbiamo usufruito da lettori, da spettatori, da ascoltatori, no? Assolutamente d'accordo. Io conerei che dire grazie per la tua presenza, vite parallele. Noi ci abbiamo messo tutto con l'irei. Avete scoperto un artista poliedrico, un bravissimo poeta. Ti auguro appunto di poter realizzare questo lungometraggio, di vederlo sui grandi schermi. Quindi quando vuoi noi saremo qui per accogliere questa nuova opera perché noi ci occupiamo di tutto, a vite parallele. Siamo lieti di scoprire nuovi percorsi e nuove storie. Quindi io ringrazio Conerei, ricordo il suo Interno 4, liriche cinematografiche. Grazie ancora Conerei. Ecco, ti ringrazio tantissimo Katia Simone per l'attenzione, la disponibilità e per aver apprezzato della lettura Interno 4, questo film da leggere e vedere tra i versi. Vorrei solamente aggiungere una cosa che il libro nel 2008 fu pubblicato in 500 copie, non a caso, perché da editore indipendente io mi sono comportato come un editore, cioè nel senso che ho fatto il deposito legale, cioè quando si produce, si pubblica un libro in 500 copie come minimo, allora si può fare il deposito legale, quindi una copia alla Biblioteca Nazionale di Roma, un'altra copia, perché è previsto così, alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Poi ci sono delle copie anche, non solo in visione, ma in prestito presso alcune biblioteche di Roma e non solo, non solo Roma e non solo in provincia. E quindi chi vuol, visto che l'ho prodotto 500 copie, anzi mi è arrivato, non per sbaglio, altre 75 in più che ho utilizzato al meglio ovviamente, ma alcune copie ce l'ho, poche ma ce l'ho. Chi fosse interessato può scrivere a conirei009.gmail.com Quindi ripeto, conirei009.gmail.com ma ovviamente conico, l'hypsion, come raggio inglese. Ma lo faremo presente quando... Oppure mi può trovare anche e contattare attraverso messager sul mio profilo Facebook, quello di Facebook, che è quello per l'attività appunto di Poeta Performer e di regista esordiente che sta lavorando a realizzare un primo lungometraggio. Perfetto, perfetto. Allora io saluto i nostri ascoltatori, risaluto ancora con i rei, grazie Marco Lodi alla regia, noi ci risentiamo presto con un altro grande e bravo poeta. Baci e abbracci dalla vostra Katia Simone, vamos Marco con la sigla. Grazie per aver ascoltato Radio Giano Public History. Radio Giano Public History, o kiki itadaki, arigatou gozaimashita. Grazie per aver guardato il video.